oh no com'è? tutto bene che stai fa? e adesso lo mangiamo le mangiate i scartapelli con talfarturi? ma che cazzo dice? sto cazzo ah bellino com'è? è massimo com'è? stasera gioca l'Inter eh lo so vincemo? speramo tocchi dei coglioni sì salutami Michael va bene va bene la marmellata che vuoi? di cosa? e devo portare la marmellata di che? la marmellata di che? di f***a aspetta o no nonno ti manco? eh? ti manco? ti manco eh beh ti manco sì ma ma l'ho spalato il pili l'hai presi? niente go 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 chi ha segnato? come può? è Lautaro ha tirato a presso portiere chi ha segnato? è entrato un altro che è quello chi ha segnato? chi ha segnato? chi ha segnato? chi ha segnato? è entrato oh grammofono ha segnato grammofono ci sentimo dopo va bene dai 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 no no dai Grazie.